Ciao ragazzi, visto che oggi non ho pubblicato niente, vi pubblico questo shorts perchè vi volevo dire una cosa molto molto importante torneranno le live su youtube non saranno tante, ve lo dico già, però torneranno specialmente in estate specialmente in estate faremo tante live insieme vorrei già partire magari la prossima settimana e cosa faremo in queste live? faremo delle serie su fifa lo faremo solo sul canale giungamergaming e niente, faremo qualcosa su fifa magari decideremo un po' il live insieme oppure lo deciderò io prima e mi raccomando, state attivi vedete le future live insomma però in queste live parleremo anche di calcio di tutto insomma, un po' le notizie detto questo, vi volevo dire questo seguitemi su entrambi i canali cioè su il canale giungamer extra, giungamer e giungamergaming i canali giungamergaming Grazie.